Allora oggi mi è arrivato un pacco e sono molto curioso di vedere cosa ci sarà nel pacco Se siete curiosi anche voi, continuate a guardare questo video Ecco già, ecco il pacco che mi è arrivato Non so se è dentro, ma ora ora iniziamo a capire un po' Non so se è dentro, non so se è dentro, ma ora iniziamo a capire un po' Non so se è dentro, non so se è dentro, non so se è dentro, ma ora iniziamo a capire un po' E' il drone che ho ordinato e finalmente mi è arrivato Ho dovuto pagare anche le tasse docanali perché non lo possiamo pagare Ma partiamolo su Non so se è dentro, è nato, è nato amici Ok, ora vediamo cosa c'è qua Poi c'è qua Poi c'è qua Poi c'è qua Poi c'è qua Sono pedini da cataggio Che sono come petizioni delle eliche è la telecamelina con l'assessore di tramitato con i cametti forse servono per creare la batteria o per trasferire la telecamelina ha anche la memoria la memoria di ISD la memoria troppo la memoria si Poi qua c'è il accessorio per la telecamera per attaccarlo al drone Poi ci hanno addirittura anche il porta chiave per attaccarlo al telecomando Poi ci sono fatti come una smonta Poi ci sono fatti come un po' più grande Poi ci sono fatti come un po' più grande Poi ci sono fatti come un po' più grande Sarebbe si non viene combinato è bello che fa tutto addirittura il suo drone può tornare a porti di patenza in automatico anche quando si scarica la batteria è un drone molto svelo ed economico poi abbiamo anche il portatelefono attaccando sul telecomando ecco le viti le viti servono per avvitare le viti ecco 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 Grazie per la visione!